custode chiesa san pietro d'alcantara le accantarine di legge presente il progetto d'ascolto regalo melodico poetico pensiero tonificante per umore da stress psichico mentale facendo ricerca su google upload from pietro paolo quarta copia e incolla l'indirizzo interessato su un conoscente qualunque tramite mail contestate saluti per ricevere su whatsapp tonificanti melodiche così ingratitamente basta inviare il vostro numero telefono pietro paolo quarta poeta naif santino editore pam sicilio d'autore voglia di saluti o issa voglia di da grazie a tutti 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 Custode, chiesa San Pietro d'Alcantara, le accantarine di legge, presente il progetto d'ascolto, regalo melodico poetico pensiero, tonificante per l'umore, da stress psichico mentale, facendo ricerca su google, google.com, Pietro Polo Quarta, copia e incolla l'indirizzo interessato, con conoscente qualunque, tramite email e contestate saluti, per ricevere su whatsapp tonificanti melodiche, che si è gratuitamente, basta inviare il vostro numero telefono, Pietro Polo Quarta, poeta Naif Santino, editore Mame, sigillo d'autore, mondiali saluti oista, mondialità.